E' iniziata con un minuto di silenzio la riunione d'emergenza dei ministri degli interni e della giustizia europea a Bruxelles, due giorni dopo il duplice attentato che ha insanguinato la capitale belga. Per il ministro della giustizia belga, Kearn Gens, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra i servizi segreti. Una questione che è stata molto importante è lo scambio completo delle informazioni giudiziarie. Ogni giorno scopriamo, nell'ambito di quello che è successo a Parigi e a Bruxelles, quanto sia importante che i nostri servizi di intelligence, che i nostri servizi giudiziari, scambino le informazioni utili che sono necessarie. Da parte sua il ministro degli interni francese Bernard Kasneva ha chiesto la rapida applicazione del registro dei passeggeri aerei e l'aumento della sicurezza in tutta l'area Schengen. Insista sulla necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea. Questo richiede che tutti gli Stati membri modernizzino rapidamente i propri aeroporti. Chiedere una maggiore condivisione delle informazioni e una migliore cooperazione nella lotta al terrorismo non è una novità. L'Unione Europea lo ha già fatto dopo i precedenti attacchi terroristici nel continente, ma il vero problema è che le informazioni sulla sicurezza sono gelosamente custodite dagli Stati membri. L'Unione Europea lo ha già fatto dopo i precedenti attacchi terroristici nel continente,